Buongiorno, è molto importante per stabilizzare la colonna vertebrale avere degli addominali sviluppati e tonici soprattutto. Ora, non tutti siamo allo stesso livello, perciò partiamo con l'esercizio più semplice possibile per rinforzare gli addominali. Gli addominali in isometria, ok? Facciamo il retto addominale e l'obliquo. Molto semplice, prendiamo la gamba, portiamo l'assù, prendiamo la mano, la mettiamo qui, stiamo stimolando questo muscolo. Quindi, in questa posizione spingiamo questa gamba in su per 5 secondi, tenendo questo gomito dritto. Pronti? Piede. Uno, due, tre, quattro, cinque. Benissimo, ci sei? Lo facciamo tre volte, tre volte dritti. Poi, cambiamo le mani, giriamo questa mano, la mettiamo qui e questa sopra, in questo modo, questo gomito è dritto. E facciamo la stessa cosa, ossia spingiamo con questa gamba in su, sempre per 5 secondi. Uno, due, tre, quattro, cinque. In questo modo, stiamo invece stimolando il muscolo obliquo degli addominali. Lo facciamo tre volte, il retto, tre volte l'obliquo, sia a destra che a sinistra. Però, mi raccomando, non dovete sentire male da nessuna parte. Dovete solo sentire che si contrae la parte addominale. Grazie.